Musica Un cordiale saluto, buongiorno, ben ritrovati a tutti, carissimi telespettatori di FanoTV Oggi è il 2 luglio e siamo a giovedì, quindi abbiamo già superato il giro di boa di questa settimana Settimana che si preannuncia anche molto calda dal punto di vista meteorologico Tutti gli esperti ci stanno mettendo l'ansia con questi 40 gradi che dovrebbero arrivare Insomma, staremo a vedere, ma questa è l'estate, d'altra parte non si può fare altrimenti Allora, buongiorno, dicevo, è bello sapere che siete sempre in tanti, ogni giorno, sempre di più a seguire la rassegna stampa Allora, oggi è San Bernardino, il sole è sorto alle 5.29, tramonterà alle 20.55 Dicevo, il tempo, il caldo e guardate che bella giornata si prospetta anche oggi con questo cielo sereno Questa è la fotografia della nostra webcam con l'Italia che è praticamente sgombra dalle nuvole Guardate il satellite sulla vostra sinistra, vedete le nuvole sono altrove L'Italia è completamente libera, sono 22 gradi, 22 gradi e 3, ma come è successo anche ieri andremo intorno ai 31-32 gradi Oggi avremo cielo sereno poco nuvoloso con temperature in lieve aumento, il mare quasi calmo o poco mosso Venerdì 3 luglio, domani cielo sereno poco nuvoloso, temperature in lieve ulteriore aumento E venti settentrionali di brezza leggera, il mare quasi calmo o poco mosso Per la giornata di sabato nulla di diverso, cielo sereno poco nuvoloso, temperature senza variazioni di rilievo I venti settentrionali brezza leggera, il mare sarà poco mosso Le condizioni di stabilità perdureranno almeno fino alla prima parte della prossima settimana Dunque per chi può e per chi è in vacanza, tutto mare E c'è la notte rosa, dunque sarà una notte rosa non solo rosa ma anche calda Nel senso che farà caldo anche di sera, quindi sarà una notte rosa probabilmente piena di gente Gente che per sconfiggere anche la calura, quella delle case, insomma uscirà e quindi cercherà di prendere una boccata d'aria Dunque notte rosa, dicevamo La pagina di fano del resto del Carlino, non siamo inferiori alla Romagna E intanto il maestro del concerto all'alba bacchetta il comune di Fano, Mario Mariani Ma quale deviazione? Alla norma, io improvviso e suono in luoghi suggestivi Va bene i turisti affamati di arte e di storia Ma la toilette, visite guidate ai monumenti sempre più affollate Però la notte stonata è l'assenza di servizi pubblici nel centro storico di Fano Ricci, Rincicotti e Orciani, la sfilata delle anomalie La presidente della commissione controllo e garanzia vuole vederci chiaro Per l'Ansuini, repentino il cambio di strategia di Aset Strane le modalità della transazione Ansuini ha ascoltato l'ex direttore generale del comune di Fano De Leo Oggi tocca al dirigente amministrativo di Aset Spa Ed ecco la fotografia di un momento dell'animata discussione della commissione garanzia e controllo Del maggio scorso con Minardi Bene, sotto, anzi no, l'altra pagina del resto del Carlino Si occupa del Grizzly Il Grizzly che cos'è? È uno spazio autogestito a Fano, nella zona del campo d'aviazione Sono dei ragazzi che più di un anno fa hanno occupato abusivamente l'immobile che si trova in via della colonna 130 Che un tempo era abitazione del guardiano del campo d'aviazione Il Grizzly tra l'altro è anche tra le associazioni che animano il festival al Pincio Republic, patrocinato proprio dallo stesso comune E la notizia di oggi, come vedete dal titolo, è che si sta occupando la magistratura di questo spazio autogestito Mentre i ragazzi dicono comunque noi non ci arrendiamo, andiamo avanti La Questura dice, parla di fatti in fase di valutazione dei giudici Il Sindaco di Fano si riconferma Tutto questo per la piastrellatura che è stata fatta di recente all'interno di quest'area Con tanto di recinzione Ovviamente voi sapete che per tutti i comuni mortali Quando si fa qualcosa, anche fuori nel giardino, bisogna avere le autorizzazioni E loro ovviamente, questi ragazzi hanno fatto un po' da sé Insomma, senza autorizzazioni Quindi adesso la magistratura o comunque qualcuno sta cercando di capire un po' Se il tutto è regolare oppure no Estate, 8 km di costa super sicuri Da Marotta a Torrette fino al 31 agosto Ambulanza operativa tra i bagnanti E tra i bagni e le concessioni balneari Dal 13 giugno è attiva una moto d'acqua Per le emergenze all'altezza di Piazza Kennedy Questa è la foto di gruppo dei volontari della Croce Rossa di Marotta Composto da oltre 140 persone A sinistra invece il presidente Luciano Seri Bene, dall'altra pagina invece del resto del Carlino Da Fossombrone, borse di studio ai giovani con la fondazione Occhialini Oggi alle 18 nelle chiese di San Filippo a Fossombrone Ci saranno consegni 12 borse di studio per l'anno 2014 ai migliori studenti dell'ultimo anno delle scuole secondarie della nostra provincia e della regione Allievi della scuola di orientamento alle facoltà scientifiche organizzata dalla fondazione Occhialini Ok, poi Apriamo adesso invece il Corriere Adriatico Il Corriere Adriatico, la pagina di Fano, si occupa della tassa di soggiorno Luciano Cecchini, che non è quello del Carnevale È, credo sia il cugino, omonimo Che è invece il presidente degli albergatori Cecchini accusa e dice Ricavato dell'anno scorso, utilizzato interamente per finanziare il Carnevale I patti, secondo Luciano Cecchini, non sono stati dunque rispettati Quei soldi, infatti, dovevano essere utilizzati per la promozione, l'accoglienza e la riqualificazione della città di Fano La questione in Consiglio Comunale è che domani si riunisce per approvare il bilancio preventivo Questa è la notizia in evidenza sulla pagina di Fano del Corriere Adriatico Mentre sull'altra pagina, la pagina 5, si parla di visite fisioterapiche Ebbene, non c'è più spazio Al Santa Croce è impossibile prendere appuntamento Mentre a pagamento, sì, come tutte le cose In sette giorni si fa tutto Un altro utente scopre che l'indicazione nell'impegnativa prestazione In 30 giorni non c'entra e non conta assolutamente nulla Mentre sopra, l'Aset Holding dona materiale sanitario per il Kenya La vicepresidente dell'Africa chiama Anita Manti in partenza per lo Zambia Sotto, invece, è revocata l'ordinanza alla spiaggia dell'Arzilla Infatti, lì si può fare il bagno L'ARPAM ha certificato che i valori sono tornati nella norma Mentre nel cortile di Palazzo Sant'Arcangelo, sempre a Fano In programma, 66 eventi, tra cui 48 proiezioni di film È stato presentato il programma E questa nuova location si inaugura praticamente domani Questa è la nuova location che, come ormai ben sapete Sostituisce la corte malatestiana che tornerà invece, come abbiamo visto ieri Ad essere un giardino Poi, sempre dal Corriere Adriatico A Marotta si discute e si accelera Si cerca di accelerare i tempi sulla costruzione di questo outlet Questo grande, grandissimo centro commerciale La società che dovrebbe investire soldi E che si chiama Expandia Fa sul serio incontro tra la Giunta Mondolfese e possibili investitori Lucchetti dice non possiamo perdere più tempo Mentre la Confesercenti resta critica Fa ovviamente il suo lavoro e dice però Megastrutture, come quella dell'outlet, ormai sono superate Mentre la società dice se l'attesa non sarà ragionevole O arriverà una risposta negativa Non escludiamo di passare per le vie legali A Isola del Piano invece sono state fatte brillare due bombe Chiamiamole così Doppia esplosione Gli artificieri di Bologna hanno eliminato Questi due ordigni bellici che sono stati ritrovati appunto A Isola del Piano Erano perfettamente efficienti Questi congegni erano emersi nel corso dei lavori di sistemazione della provinciale Da Senigallia ladri e vandali presi i ragazzini terribili Due quattordicenni che sono stati fermati nel capannone ex MSRC Si erano schiantati con l'auto rubata contro un palo Insomma far west Tanto per non farci mancare nulla Si stavano allontanando con gli zainetti pieni di attrezzi Nei giorni scorsi avevano anche bruciato E così, un divano L'ultima pagina invece è quella di Pesaro Urbino Eccola qui Razzia di attrezzature all'Auser Sono stati denunciati l'esecutore del furto E i tre ricettatori del materiale rubato Stiamo parlando di un fatto che è avvenuto ad Urbino Mentre a Fossombrone un appuntamento con il mini basket Un terneo internazionale con grandi numeri Perché come sempre questi eventi sportivi richiamano anche tante persone Nella città e nelle zone limitrofe in cui è in programma La pagina di Pesaro invece del messaggero La notte rosa allunga la musica Si potrà suonare fino alle due di notte Anche sul lungomare Stasera anteprima alla Rocca Rafforzati i divieti A Pesaro come a Fano Saranno proibiti bicchieri e bottiglie di vetro Mentre si parla Ma questo anche sugli altri giornali Della frode sulle birre industriali Che sono state spacciate per artigianali Birre industriali dunque Spacciate come birre fatte Nei piccoli paesi Quelle fatte con tutte Ancora a mano come si suol dire Il corpo forestale sequestra oltre un milione di etichette Facendo scattare denunce per frode Nell'esercizio del commercio Delitto ferri La parte civile non crede ai due killer E infatti dice Secondo noi ha sparato soltanto una persona sola Il legale della famiglia dice I bossoli ritrovati vengono dalla stessa pistola Dopo la baia Flaminia blindata Giro di vite anche per bici selvaggia Nell'area del campo di Marte È stato affisso il divieto per scooter e auto In modo da salvaguardare il verde Il comandante dei vigili di Pesaro Galdenzi Avverte i ciclisti Controlleremo soprattutto quelli sui marciapiedi Gambini, il sindaco di Urbino A cena con Silvio Berlusconi Nella sua villa ad Arcore Il sindaco ha incontrato Berlusconi Insieme al suo assessore Vittorio Sgarbi E a Elisabetta Foschi La ricostruzione del centrodestra Il tema affrontato Situazione politica in fibrillazione nella città ducale Un comune mal di pancia da parte dei verdi E anche in Forza Italia Non mancano i mogugni L'ultima pagina è quella di Fano Del messaggero In evidenza ovviamente anche qui Il capodanno più lungo dell'estate Tra notte rosa e festa dei saldi Tutto è pronto per la manifestazione Che in città avrà una coda anche sabato Distribuiti oltre 10.000 dépliants Marcheggiani invita a prendere la bicicletta Dunque lasciare a casa la macchina Il parcheggio della caserma Paolini Resterà sempre aperto Per facilitare l'accesso in centro Musica fino alle 3 di notte E va detto che Tra i vari appuntamenti A margine c'è anche la festa del fritto Che sta comunque che si è in parte tinto di rosa Anche se è una manifestazione Che ha una vita se una vita propria Però ecco visto che va in scena in quei giorni In programma in quei giorni È ovvio che gli organizzatori hanno pensato Di dargli una botta di rosa insomma Ritorno nel doppio senso In via Brigata Sassari Questa è l'altra notizia che potrete leggere Sul messaggero di questa mattina Il Comune ha assicurato ai residenti di Centinerola Modifiche alla viabilità Poi ancora sotto la Ricicotti Orciani Alla Commissione Garanzia L'abbiamo già visto E all'Arzilla si può fare il bagno L'ASET bonifica la rete idrica Ok allora sapete tutto di quello che è successo ieri Quindi è tutto per la rassegna stampa di oggi Grazie per la vostra cortese attenzione Vi ricordo questa sera l'appuntamento con occhio Alla notizia alle 20 e 30 Noi ci rivediamo domani Grazie e buona giornata a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti